Bella ragazzi e bentornati in questo nuovo, ennesimo, meraviglioso episodio della, come cazzo si, della Exical Future Allora, questa notte ho parlato con il dev di Rio V, che è praticamente l'autore di questa mod Perché io ho quel problema che non mi cadono i, cioè, minando il blocco, se ne viene il blocco anziché uscirne il lore corrispondente, insomma, il lingotto, quello che deve essere il lingotto Ha pubblicato immediatamente un aggiornamento per fixare la cosa, io adesso non l'ho provato, sto piazzando un miliardo di blocchi sperando che funzioni Quindi adesso proviamo se funziona E vaffanculo funziona stavolta Oh, bene, io pensavo ne desse di più, invece ne da uno Il nostro obiettivo quindi adesso è di Ecco, minchia, che palle Di prendere tutti i blocchi che abbiamo minato e che se ne sono venuti sotto forma di blocco E trasformarli in questi Perché a noi ci servono questi E ce ne servono tanti, tantissimi Un miliardissimo di miliardi Quindi, adesso, voi con me vi fate due coglioni così A fare questo lavoro qui Perché io volevo farvelo vedere Perché mi scocciava non farvelo vedere e andare direttamente con Ah, ok, quelli sono dei soliti ragni che stanno là Andare direttamente con i cosi, però dai ragazzi ci mettiamo tre minuti Tre minuti Che cosa sono tre minuti? In tre minuti ci... ci... vi potete fare... che ne so I sofficini O i vrustel quelli precotti perché le mamme di oggi non ci hanno voglia di fare un cazzo E quindi comprano i vrustel precotti Non tutto, ovviamente sto scherzando ragazzi Non vi offendete... non vi sto offendendo la mamma Cioè, ci mancherebbe In tre minuti c'è gente che riesce a portare, a compiere E a portare quindi al compimento un rapporto sessuale Mi dispiace per la ragazza Quanti ce ne abbiamo? 64 e 23 Chissà se sono sufficienti per quello che ci serve Secondo me no Però noi qua ce ne abbiamo degli altri E quindi... ce li faccio... no, li avevo presi tutti? Ah, abbiamo finito ragazzi Ottimo 11, 64 Bene Non so se esserne contento però... vabbè Io ci provo ragazzi Allora, bisogna fare questo E abbiamo 7 blocchi di Hermist Ragazzi, forse ce la facciamo Eh, mi sa proprio che ce la facciamo Ehm... basta 10 blocchi 10 blocchi ce la dovremmo fare, quindi Aha Allora Sbasalto che ce ne abbiamo un miliard alto Ehm... adesso mi servono solo un altro paio di cosette Ah... 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 Dove cazzo sta il legno? Ma perché sopra c'è... c'è quella roba tra l'altro? Quella roba non deve sta sopra Sta roba qua non deve sta sopra Questa non deve sta sopra Deve stare sotto! Ok Allora Andiamo a fare un po' di zippi? Ah, giustamente Sto facendo accoppiare della legna che non è accoppiabile E adesso il discorso è Ehm... come cazzo si facevano i... Le staccionate, raga? Non mi ricordo No, è questa la scala Oh... Oh... Non ci credo Non ci credo, non mi ricordo, raga Eccole! Ahahahah Ok Ehm... Poi Poi Niente Poi niente Non me ne frega di farci la... la porticina Perché io non so Se quello che stiamo andando a fare è pericoloso Quindi Voglio comunque circoscrivere l'area Diciamo che utilizzeremo Allora Innanzitutto ci servono Due Ok Quindi Facciamo così Così Poi mettiamo uno sbasalto qua E mettiamo uno e due Mamma che spreco Che spreco Uno e due Uno E due Ma così grande dov'è essere? A due? Sì Uno e due E come al solito io non so l'altezza Dovrebbe essere così Sì Quindi Quindi, quindi Vabbè tanto lo posso eliminare Quindi Almeno spero Speriamo che funzioni, raga Speriamo che funzioni Poi Prendiamo questo Tanto poi lo rompiamo Sti cazzi E facciamo così Che cazzo sto a fare io? Ma manco lo Manco io so quello che cosa sto facendo Anche perché ho detto di volerlo fare Di volerlo fare Di volerlo fare lontano Ma lo sto facendo vicinissimo a casa Va bene Bravo all'imbecille Comunque Vabbè ormai ci stiamo Lo stiamo facendo così Lo facciamo così Ah ho notato che l'audio è leggermente Leggermente Troppo alto Però l'ho notato in un video Che voi Cioè praticamente in tipo In quattro video fa Ma io già ne ho registrati altri Altri quattro cinque Quindi Ve lo tenete così Ok allora Direi che possiamo fare un cazzo Perché qui bisogna Non la portare Una Vabbè Io ho fatto tutto sto casino Per non fare una mazza Perché fondamentalmente Qua non posso chiudere Però posso fare così Sì posso fare così Decisamente E così So che sembra non servire a niente Ma serve raga Serve se noi avessimo avuto abbastanza così Quindi lasciamo tutto così E va a fanculo Allora un'altra cosa che ci serve È l'activator Che non è la flint and steel Classica Cioè Se riesco a entrare dentro casa Magari ve lo faccio vedere Non è la flint and steel classica Quindi Ci serve di 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 Prendere Questa cosa qui Che noi abbiamo trovato ad inizio Per fortuna Abbiamo trovato ad inizio Ma queste sono foglie normali No? Ah questo Foglie da caccia Non so se funzionano però No Non è decisamente Quello che serve a noi Harvest plants and leaves Eh Ma le leaves Ando stanno Ok Allora qua ci serve Qualc'altra cosa Mi sa che ci servono Le Le Scissorts Le Sciss Le Scissorts Allora No Non ci servono Le Scissorts Ok ci serve uno strumento Che Che ci Praticamente Permette Di Tagliare le foglie Strumento che io Non ho mai creato E che non so Neanche come cazzo Si chiama Quindi adesso Mi trovo in grossa difficoltà Perché sto registrando Ma dovrei andare a vedere Sulla wiki Come cazzo Si fa Radio su uno Cutting branch Però è strano Che questo qui Non faccia quello Perché io so che Dovrebbe essere quello Iron Allora Iron Sequel Poi Vediamo se c'è Dell'altro qui No Lasciate Non ci interessa Oh Raga Dovrebbe essere questo Forse non funziona Perché quelli Non sono Oakwoods Non sono Oak Insomma Quindi io farei una cosa Cerchiamo un attimino Degli alberi Normali Classici Questo che è Acacia Sempre Assoreta Che cazzo serve Se poi non me la dai Disse il ragazzo Alla ragazza Ehm Quel ragno lì Deve rompe i coglioni Allora Mappa Possibile che Abbiamo solo Della caccia Qui C'è qualcosa Che non sia Acacia Sono tutte Acace Vediamo Se riusciamo Di qua Perché avevo visto Qualche alberello Sperando di non Sbagliarmi Sperando di non Sbagliarmi Allora lì ci sono Delle foglie più verdi Vediamo un po' Se sono alberi Diversi O se è solo No era solo L'impressione Eh no Questo toglie proprio Questo toglie proprio Ok lì ci sono Degli alberi normali Mi sa Madonna Che brutto suono Che fanno questi Che cosa sei tu? Birchwood Perché c'è Una chest qui? Io non capisco Come funziona Raga Probabilmente Sono imbecille io Eh Ve lo Cioè lo ammetto Ce la faccio? Eh no Toglie Toglie proprio Toglie proprio Quindi Adesso Facciamo una bella cosa Mentre voi Aspettate un secondo Io cerco Perché io non posso Tagliarlo il video Eh vi racconterò Intanto una barzelletta Allora Intanto no Devo fare una cosa Allora Activator Allora A noi serve Questo qui E ci serve Birch Vedi pure Birch Jungle Leaves Ok Allora Quindi ci basta Uno di questi Uno qualsiasi Quindi Da look Ah Le shears 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 Ecco le Vaffanculo Guarda Per due cose Di merda Vabbè Io non ho capito Tra l'altro Perché Qui C'è sta roba Sembra Sembra esserci Un Un Ah ecco Perché c'è il tizio Ci sarà un altro greco Da ste parti Eh sì Facciamo così Perché mi sono già rotto i coglioni Di cercare di andare Mi dispiace del tempo Che Ho impiegato a capire Queste Shears 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 Come cazza Rola Eh Però giustamente Almeno Risparmiamolo un po' di tempo Quindi Andiamo a prendere Il ferro Ok Ragazzi Mi dispiace Ma io ve l'ho già detto Io i video di minecraft Non posso assolutamente Montarli Perché non ho Il tempo materiale Per fare questa cosa Altrimenti Veramente L'avrei fatto Senza problemi Allora Quindi abbiamo bisogno Di queste Affanculo Che cazzo Si sono incazzati Perché io ho rotto Il giochetto Ma vaffanculo Io li odio Quei cosi Devo trovare un modo Per togliere Sta mod Dei bug Perché veramente Non servono Proprio niente Mazza i biscotti Te ne devi magna parecchi Per riviarti eh Porco Giuda Non curano niente Non curano Dammi la bisteccozza Va Ok Allora Perfetto Adesso ce n'ho Fin troppe Allora Activator Coal Quindi Del coal Do sta Il coal Eccolo qua Coal E Questo E non Funziona Perché non funziona Jungle Birch Scumetto che la La caccia è l'unica Che non funziona Jungle Birch Spruce Hawk Il che Lo sapete che cosa vuol dire Questo Sì Lo sapete Do stanno Le Ah Se sono consumate Un attimo Madonna Che due maroni Che due maroni Vuol dire che dobbiamo Cercare un birch Un hawk O Allora Il birch Stava lì Di qua non ci sono altri alberi Questo che è Dimmi che non sei una caccia Di merda Hawk Ce l'avevo dietro casa Bene Nel frattempo Il regno dei bug Che si è proprio Incazzato Si ribellano Proprio quando Gli tolgo Le foglie E' una cosa più forte Di loro Allora Vediamo se riusciamo A venirne a capo A sta cosa Perché già me sto Rompendo i coglioni Oh Vaffanculo Oh Quindi ragazzi Adesso Si fa Una cosa Molto Semplice Togliamoci Tutto Dadosso Tutto E andiamo Magari Una spadina Me la terrei Eppure Sta roba di Iron Almeno per avere Un minimo E Ah Già ce l'ho Becille Ok Questi Manco per il cazzo Me li spreco così Mettiamoli qua Portiamoci solo Qualcosa da mangiare E credo che sia Comunque Giorno Anche Lì Quindi Mettiamo Prendiamoci una Spadina Classica E qualcosa Per Picconare Anche se Mi rompe Proprio Tantissimo Usare un diamante Però purtroppo serve Il diamante Non voglio rischiare Però di Vabbè Eh raga È così È così Bene io sono pronto L'activator Ce l'abbiamo E se tutto Va Come deve andare Cheat883 Si accenderà Il portale E ci siamo E ci siamo E ci siamo Oddio Ho sentito un tuono Bene Già la cosa non mi piace Ho paura che esca qualcuno da lì E questa è la cosa più brutta Comunque sì Io l'activator Lo lascerei qui Scusatemi Lo lascerei qui Perché non Credo che mi serva anche dall'altra parte A meno che non mi distruggono il portale Male che va Abbiamo il teleport La prima cosa Che brutta cosa Questa cosa del tuono La prima cosa che faremo Una volta entrati Ecco Pensavo ci mettesse Tipo Lend 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 Tipo quell'altro posto Lli rosso Lender Ok la prima cosa Immediatamente Aggiungiamo Portale Ritorno Aggiungiamo il portale Io non so dove sono spawnato Spero non in un posto di merda Come al solito Adesso siamo nella prima dimensione Della Rio V Ecco Io vedo che qui C'è tutto attorno Della terra Così come vedo che Non c'è un cazzo Dove sono io Cioè Io sono l'unico cristiano Che può spawnare In un posto così Di merda Qua è vuoto Cioè se si cade Si muore Come potete vedere Ci sono dei tizi Che fanno ammazzate Questa è una bella cosa Perché loro fanno ammazzate Tra di loro Quando muoiono Droppano roba E droppano roba buona Tra l'altro Quindi adesso Io devo fare solo una cosa Che Cioè L'unica L'unica alternativa Che vedo È portarmi Un Un miliardo Di Perché io Non lo sposto No no Non lo sposto Ma perché mi dice Choose a class Un'altra volta Warrior Mi fa rimettere tutti i punti No non mi li fa rimettere tutti Questi già ce l'avevo Ma Vabbè Ma Ma sa che funziona un po' male Allora Io prenderei Tutta questa cobblestone Speriamo solo Di fare una cosa buona Cioè Di aver avuto una buona idea E non un'idea di merda Come le mie solite E cerchiamo di avvicinarci A uno di quei lembi di terra Sperando di non cadere Sperando di non morire Allora Perché Sto portale di merda È capitato proprio In un posto di merda Allora Io vedo che c'è Molto movimento di là Lì si stanno picchiando Quindi La cosa migliore Forse Solo che io poi come scendo Perché io là Ci posso anche arrivare Però poi come scendo Ma Vabbè Io ci provo raga Uh Qua non lagga Allora Vediamo un pochettino Se la cosa è fattibile Sto cercando di Vedere Dalla mappa Se Riesco a camminare In maniera Ah si 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 Sono quasi arrivato Già Il problema è veramente È come cazzo scendo Mi servirebbe Dell'acqua Probabilmente L'unico modo È l'acqua Lì c'è già una torre Con un mini boss E ci sono anche Dei Degli alberi Ma io non ho portato L'accetta Bene C'è un enderman Ok ci ho lavorato Tanto per arrivare qua E sono arrivato In un posto di merda Bene Ottime cose Proprio E qui ci sono varie cose Da fare Cioè che si possono fare Allora Io Quest'albero Mi è proprio D'aiuto Quest'albero Mi è di aiutissimo Proprio Chi è che sta sparando Che sta sparando Si sta sparando Addosso Lì stanno Si stanno picchiando Comunque Perché sono dentro L'albero Perché sono dentro L'albero Scusatemi Si è capito Allora No Ma cazzo È buggato Oh Cristo Ok adesso Sono a piedi In un posto Pieno di gente Che fa male Fa parecchio male Infatti vedete Che si stanno picchiando Tra di loro Questa che è Tv bash Ok sono Dei bash Che danno Questa roba Che poi bisogna Craftare in qualche modo Io devo solo Stare attento A non avvicinarmi A nessuno Perché Perché se mi avvicino A qualcuno Qua sono cazzi Da cagà E qui c'è anche Della roba Che mi permetterà Poi di Farmi Dell'equipaggiamento Più potente Per questo Io mi sono portato La mia bella piccozza Vedete Come si fa A far cadere La roba Ok Sono riuscito A recuperare Ok io Se riesco già A minare Un po' di roba qua Sono a cavallo Sperando di non essere A cavallo di un asino Ecco Io questo Volevo capire Non posso scendere Troppo Per il semplice motivo Che Se scendo troppo Poi Non riesco più A risalire Già Già Stavo facendo La scaletta E Mi sono dovuto Fermare Perché Io devo stare attento Che non ci sia Nessuno qui Perché veramente Qua ti fanno Il culo a strisce Dove cazzo sta Ok qua sopra Era Perfetto Anche se io Là sopra Ci potrei tornare Tramite il portale Volendo Questo m'ha visto Sì Secondo me M'ha visto Infatti sta sparando Sono buggati Stalberi Sono buggati Porca troia Allora Se io riesco A continuare A fare la scaletta Sei un imbecille Comunque No 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 E qua so cazzi Qua so cazzi Qua so cazzi Aiuto Aiuto No 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 Voglio andare in alto Voglio andare in alto Mannaggia Stalberi di merda No 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 Non mi far cadere No 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 Raga questi fanno male E sono molto Ben equipaggiati E quello No Spawnano pure Dai però Però è fattibile Il problema sono io Che non sono equipaggiato Però è fattibile Questo è uno Zarite soldier Vieni qua Stronzo Cioè io sto Su questo lembo Che se cado Su cazzi Con la spada Di ferro Riesco a fargli Un po' di danno Quindi volendo Io non avevo pensato Che questi spawnassero Come le merde Bravo Cioè hai fatto Quello che non dovevi fare Cioè farti spingere Madonna qua Che lagga Dove sta Aiuto Dove cazzo sta Ok Se ne è sceso pure lui Da qualche parte Ok Io continuo a fare La mia scaletta C'ho una tensione addosso Raga Perché c'ho paura Di morire Però voglio Prendermi le risorse Ok Sono riuscito a risalire Ragazzi Perché non volevo Teletrasportarmi Mi scoccia Quindi qua Bisogna metterci Assolutamente Delle Torce Prima cosa Perché altrimenti Qua spawnano Uff Mamma mia Porca troia Brutto 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 Però ci siamo riusciti Che è la cosa più importante Io volevo riuscire proprio a fare il portale Andiamo a dormire magari che Che è sto rumore Qua ci stanno rumori a non finire Chi è Chi è Il coboldo Ma la è cagare Allora io ributterei Tutto qua Ho fatto benissimo a portarmi sta roba Abbiamo della sky stone Con la sky stone Mi sembra che ci si fa un altro degli attivatori Se non sbaglio No con la sky stone Ci si fa altro Ryo V mi da C'è un bel po' di robetta Ah con la sky stone Posso farci gli strumenti Giusto Guarda che quante stronzo E non te li fa vedere Allora Io non sapevo di aver preso la sky stone Ryo V Dirt Poi abbiamo dell'oni Quindi Volendo possiamo fare Non so se si possono fare Gli stick con la sky stone No Ehm Oni Se io faccio così Con un paio di zippi Perché gli zippi Praticamente Gli strumenti della ryo V Vanno fatti con Vanno fatti con il legno Quello che si trova lì Quindi io avrei dovuto Prendere un po' di legno Peccato non averlo fatto Però Sto fatto della sky stone Voglio capire Ma posso farci qualcosa o No C'è qualcosa comunque Che si fa con la sky stone Io adesso non ricordo Ma c'è qualcosa Che si crafta con la sky stone Solo che Purtroppo non ci sono Ci sono anche le armi Ragazzi ci sono le armi Devo solo vedere Come si craftano Ah ecco Qui abbiamo qualcosa Trivustic Che sarebbe il Ok Una roba si fa normale Però si fa con Ok Però io volendo Potrei farmi qualcosa In oni Ovvero Gli stivali Che è l'unica cosa Che non avrei dovuto fare Perché degli stivali Uso quegli altri Ma non fa niente Vediamo un pochettino La differenza Ok mi ha riempito Mezza cosa Comunque dovrebbe essere Full set Jump boost Ah vedi C'hava anche Legò Insomma ragazzi Bisogna andare lì E prendere il mondo Quindi Nella prossima Nel prossimo episodio Andremo di nuovo A Rio V Nella prima dimensione Grazie a tutti